Un ottimo punteggio ai test d'ingresso di medicina non garantisce il completamento degli studi a dispetto del voto alto alla maturità che di per sé è garanzia di un buon curriculum universitario. Lo svela l'indagine commissionata dal Ministero dell'Istruzione all'Università di Bari che ha condotto uno studio su 14.000 partecipanti ai test di ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia negli anni 2005 e 2010 quando furono immatricolati circa 2.000 studenti. Il magnifico rettore Corrado Petrocelli non ha nascosto perplessità sul metodo dei test poco efficace per una professione delicata, quella di medico, che necessiterebbe di strumenti più raffinati di selezione. In generale la formazione delle scuole superiori fa la differenza, l'identikit dello studente modello corrisponde ad un maschio in possesso di maturità scientifica o classica con voto alto che si sottopone alla prova al massimo dopo un anno dal diploma. Gli uomini hanno risultati migliori delle donne anche se queste accedono con punteggi maggiori. Rispetto alle domande dei test, la ricerca svela che risposte corrette ai quiz di chimica corrispondono ad ottimi voti agli esami universitari. A differenza di chi azzecca, le domande di cultura generale e logica, biologia, matematica e fisica invece incidono soprattutto nei primi anni di studi. Per l'anno 2013-2014, in cui le graduatorie dei test saranno nazionali, con possibilità di iscriversi in atenei diversi da dove si è sostenuto la prova, gli iscritti a Bari sono otto volte di più, il 15% dei posti disponibili, 3428 domande per soli 300 posti.